Le sue opinioni sulla Champions delle italiane. Juventus sta giocando bene negli ultimi anni. È una squadra solida e gioca col ritmo. Anche il Milan credo che con il ritorno di Kakà potrà far bene. Il Napoli è nuovo in queste competizioni, ma in campionato si sta comportando bene. Però in fin dei conti siamo solo alla prima partita. Chi vinci la Champions? Chi sono le favorite? Ci sono 4-5 squadre che se la possono giocare. Se sapessi chi andrei già a scommettere. Cruyff fiducioso per le squadre italiane. Tanta roba, Johan Cruyff. Non capita mica tutti i giorni. Lo abbiamo detto anche ai giovani, come l'amico e collega Eugenio Bertone che ha fatto la traduzione e il doppiaggio di questa intervista.